Diventa operativa la prima area interna regionale fra le quattro individuate dalla regione nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne. La giunta regionale su proposta dell'assessore alle aree interne Andrea Gerosolimo ha infatti dato il via libera alla sottoscrizione dell'accordo di programma quadro per l'area interna Basso Sangro Trigno. L'APQ spiega l'assessore Gerosolimo dovrà essere sottoscritto tra stato, regione, comune, capofila in modo da rendere operativi tutti i progetti inseriti nella strategia le fonti finanziarie, la copertura degli interventi e i cronoprogrammi di realizzazione. L'accordo che andremo a sottoscrivere ha aggiunto l'assessore Gerosolimo e frutto di un intenso lavoro sul territorio che ha portato ad un confronto con gli amministratori sulle reali esigenze di sviluppo dell'area Basso Sangro Trigno. Non è un caso che quest'area farà d'apripista anche per le altre tre aree individuate dalla regione all'interno della strategia nazionale e sulle quali è già partito il lavoro di confronto sul modello utilizzato per la Basso Sangro Trigno. L'elemento di novità inserito nella strategia nazionale è l'individuazione di una serie di finanziamenti diretti connotati dalla specificità territoriale. Su quest'area, ha aggiunto l'assessore alle aree interne, abbiamo individuato risorse per oltre 7 milioni e mezzo di euro provenienti dai fondi europei 2014-2020 del FESR, dell'FSE e del FEASR e da fondi regionali per 2 milioni. In questo modo, ha concluso l'assessore Gerosolimo, diamo agli amministratori locali certezza sulle linee di finanziamento per l'attuazione dei progetti, ma soprattutto diamo concretezza ad un impegno politico che questa giunta regionale ha assunto nel suo programma di mandato.